L'Empoli è una squadra fatta per vincere, forse anche per stravincere, visti i nomi che abbiamo letto, che ha. Quindi chiaramente è anche una sfida stimolante, semmai anche per vedere come abbiamo detto fino ad oggi, noi a che punto siamo. Abbiamo anche voglia di provare, di vedere che cosa sono gli altri, che cosa siamo noi. Quindi abbiamo voglia di andare in campo con queste squadre, che fino ad adesso hanno fatto delle amichevoli e la Coppa Italia col Manto, una partita sicuramente importante, ma l'Empoli rappresenta uno stimolo in più sotto tutti i punti di vista. Beh, insomma, un grande attaccante, che ha fatto benissimo qui, speriamo che domani faccia meno bene rispetto alle sue uscite solite. E' chiaro che la condizione fisica su alcuni elementi magari già si vede un passo simile al campionato, ad altri un pochettino meno. Quindi valutiamo e analizziamo tutte le cose, per cui credo che ci sia da migliorare in tutti i reparti. Ovviamente facciamo anche delle cose buone, chiaramente quello che in allenamento facciamo, e che vogliamo mettere in campo durante la partita. Si vede, i ragazzi ci provano e questa è la cosa che più mi rassicura. E' chiaro che abbiamo tantissime cose da migliorare e lo sappiamo. Quale è la domanda da questa? Beh, sicuramente nella gestione palla, in alcune situazioni in cui noi vogliamo fare delle cose, proviamo delle cose, poi in campo è un po' per l'avversario, un po' anche per il momento non riusciamo a farle. Sicuramente la costruzione da dietro, che è una soluzione che noi usiamo, a volte non riusciamo a renderla magari efficace per come noi vorremmo. E poi chiaramente nel reparto di metà campo è offensivo, il reparto ha sembrato da poco, per cui è chiaro che lì si cercheremo di perfezionare i meccanismi che dopo un mese e mezzo non possiamo avere. Non solo il Pescara ma anche le altre squadre hanno tempo per poter fare mercato, per cui tipo noi aspettiamo alcune situazioni che magari oggi potrebbero sembrare impossibili. E' chiaro che in questo momento poi qualche infortunio di troppo che si è messo sulla nostra strada, ci è un po' complicato alcune situazioni, però non sono preoccupato, non posso essere preoccupato. Nella mia condizione dove ho approcciato con tanto entusiasmo, non mi spaventa avere alcune difficoltà altrimenti fare un altro mestiere. Sono più o meno le cose che ci siamo detti 3-4 giorni fa, settimana scorsa. Sono ruoli numericamente che servono, mezzo a campo come abbiamo detto l'altra volta ne abbiamo pochi, e per caratteristiche davanti siamo incompleti e dietro il discorso del terzino che abbiamo fatto è uno di quei ruoli dove possiamo migliorare la rossa prendendo qualcuno.